L'anno scorso vi hanno fatto sognare ad occhi aperti! Quest'anno i giocatori di Modena Volley hanno ancora bisogno di voi! Entra al Palapanini e fatti trasportare dalla marea gialla e dallo spettacolo unico del Tempio della Pallavolo! Abbonati a Modena Volley e diventa protagonista spingendo la squadra della tua città in campionato e Champions League e canta insieme a noi fino alla fine, avanti gialli! Grazie a tutti!